Ok, grazie, vi ringrazio molto, buonasera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio il gruppo di lavoro della dottoressa Miloso per l'invito e cercherò di presentare il lavoro di clinica e ricerca che ho cercato di portare avanti in questi anni. Come appunto accennava la dottoressa, io in realtà appunto vengo da lontano, un po' attraversato tutta l'Italia prima di arrivare a Milano, appunto sono partita da Roma, io in realtà sono una terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, ho avuto e mi fa piacere ricordarlo il piacere di studiare col professor Guzzetta che insomma è mancato da pochi anni e chi si occupa di neuropsichiatria infantile lo sa bene chi era e che contributo ha dato in Italia. E poi ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per tanti anni presso la fondazione Stella Mares che è appunto un istituto di ricerca per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza proprio al fianco del professor Cione e della dottoressa Tinelli. Da poco appunto sono sbarcata anche appunto a Bicocca e ho il piacere di lavorare al fianco della professoressa Nascinovic e con il gruppo di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Gerardo di Mionza. Vi dico questo perché diciamo che i dati che presenterò in realtà sono stati acquisiti non qui a Milano ovviamente anche se come diceva la professoressa sto cercando in qualche modo di continuare su questa linea di ricerca portando appunto quest'argomento e questi studi anche qui a Bicocca. Da sempre io mi sono infatti concentrata sullo sviluppo della visione e in particolare sui disturbi visivi cosiddetti centrali cioè quindi dovuti a lesioni del sistema nervoso centrale e a come le alterazioni della funzione visiva possono comunque influenzare tutto lo sviluppo del bambino e tutto lo sviluppo neuro psichico del bambino e dato il ruolo chiave che in realtà la vista ha nello sviluppo senso motorio del bambino. Effettivamente noi sappiamo che la vista e la funzione visiva è una funzione molto molto complessa che ha diciamo lo scopo principale di fornire delle informazioni che sono necessarie per pianificare e per eseguire per svolgere le azioni nell'ambiente le azioni che però noi non dobbiamo intendere solo in termini motori quindi il cammino piuttosto che la prensione degli oggetti nelle attività di vita quotidiana ma anche proprio le azioni in termini sociali sociocomunicativi proprio perché sono queste che poi ci permettono di interagire con l'ambiente esterno e quindi di eh appunto comunicare con gli altri. numerosi spunti di riflessioni a questo riguardo ci arrivano proprio dalle ricerche sullo sviluppo neuropsichico dei bambini con disturbo visivo ehm congenito ad origine però periferica quindi con patologie oftalmologiche che in realtà poi si vede lungo lo sviluppo che hanno poi anche sintomi eh diciamo che eh primariamente in funzioni che primariamente in realtà eh dovrebbero essere indenni quali per esempio appunto gli il dominio motorio piuttosto che i domini sociali comunicativi e infatti già da tempo molti gruppi di ricerca soprattutto in Europa si stanno proprio e concentrando sulle sull'implementare numerosi test e comunque strumenti capaci di identificare precocemente i disturbi visivi delineare il profilo di funzionamento visivo di questi bambini ma non solo anche test eh diciamo che cerchino di indagare meglio eh le competenze cognitive neuro psicologiche e neuropsicologiche e psicomotorie di questi bambini proprio perché questi bambini nei fatti poi utilizzano gli altri sensi eh per eh adattarsi all'ambiente ambiente che però è in realtà come sappiamo l'ambiente in cui viviamo un ambiente sostanzialmente visivo ok quindi appunto difficile da affrontare senza la vista in qualche modo ed effettivamente la funzionalità visiva è un po' il filo conduttore di per tantissime funzioni eh perché appunto ci permette di interagire con l'ambiente sappiamo però anche dalla letteratura che il sistema visivo è un sistema estremamente plastico capace di riorganizzarsi dopo la dopo eventuali lesioni e in particolare questa plasticità è appunto molto altra nel primo anno di vita per cui la letteratura ci dice anche che è appunto l'identificazione precoce dei disturbi visivi risulta appunto essenziale ed è possibile anche appunto nel bambino molto molto piccolo e si può in questi bambini già delineare non semplicemente la patologia quindi a livello anatomico ma proprio il profilo di funzionamento attraverso metodiche non invasive ed età specifiche eh un esempio appunto questo studio che abbiamo portato avanti ormai qualche anno fa in cui abbiamo cercato di studiare eh lo sviluppo dell'integrazione visomotoria in bambini nati prematuri ma sani quindi bambini nati prematuri con lesione cerebrale con quoziente intellettivo nella norma e quello che abbiamo visto è che appunto già a tre anni è possibile vedere come questi bambini abbiano dei deficit specifici delle funzioni di alcune funzioni visomotorie e questi deficit sono appunto più eh gravi tanto minore era l'età gestazionale a cui questi erano nati e un altro aspetto che abbiamo indagato riguarda invece le patologie genetiche quindi per esempio la sindrome di down in cui abbiamo visto che alcune funzioni visive in particolare l'acuità visiva aveva uno sviluppo ha uno sviluppo molto molto lento rispetto ai bambini con sviluppo tipico dalla nascita quindi fino ai diciotto mesi indipendentemente dalla presenza di deficit visivi ehm appunto di tipo talmologico che sappiamo sicuramente essere molto ehm diciamo frequenti in questa popolazione di bambini però appunto quello che si vede è che comunque eh l'acuità visiva indipendentemente da questi ha una maturazione molto molto lenta come se proprio vi fosse in realtà un'organizzazione neuronale dei network visivi che comunque è ehm differente rispetto ai bambini con sviluppo tipico eh un'altra cosa che abbiamo fatto è invece poi concentrarci sui bambini con disturbo ehm con diciamo con bambini eh prematuri eh con però stavolta lesione cerebrale nello specifico con l'eucomalacia periventricolare che è la lesione diciamo tipica del bambino prematuro ehm stavolta però non abbiamo semplicemente cercato di identificare il deficit ma abbiamo cercato di effettuare una correlazione tra il grado di severità della lesione cerebrale è la manifestazione del disturbo visivo questi eh bambini infatti tipicamente hanno quello che viene chiamato CVI cerebral visual impairment che però è più che altro un termine a ombrello che è diciamo ehm ehm ha al suo interno tutta una serie di disfunzioni di vario tipo che i bambini possono avere che possono riguardare vari ambiti della 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 funzione visiva dalle abilità più eh diciamo viso percettive a quelle più esplorative a quelle per esempio più di processazione viso cognitiva quello che abbiamo visto eh per esempio è una cosa molto interessante è che i i deficit che questi i deficit di questi bambini e diciamo ehm che riguardavano soprattutto il dominio dell'esplorazione visiva erano particolarmente correlati al grado di compromissione sottocorticale eh mentre invece altre abilità più di tipo viso percettivo come per esempio appunto l'acuità visiva il campo visivo la sensibilità al colore erano più correlate più che altro al grado di compromissione globale in particolare al grado di compromissione emisferica eh un'altra cosa poi che abbiamo visto è questa abbiamo iniziato a raccogliere dati su invece un'altra manifestazione del CVI nei bambini prematuri che è con l'eucomalacia peri ventricolare che è invece il disturbo della processazione visiva ok quindi diciamo di quelle funzioni relative relative alla percezione della forma che è una diciamo funzione eh tipica tipica della via visiva ventrale quindi dei network occipitotemporali e della percezione del movimento quindi eh relativamente che relativa quindi all'integrità della via visiva dorsale quindi ai network più occipitoparietali e questo abbiamo raccolto tantissimi dati questo è solo uno studio pilota però mi sembrava interessante portarlo perché si vede bene come eh i bambini in età scolare con eh pretermine con l'eucomalacia peri ventricolare anche in presenza di un'acuità visiva perfettamente della norma e di un quoziente intellettivo verbale nella norma mostrino comunque un deficit punteggi molto più bassi sia nella percezione della forma questi diciamo che nella percezione del movimento questi che venivano effettuati erano test computerizzati di psicofisica eh in cui appunto il bambino doveva appunto segnalare eh la la sua percezione di una determinata forma oppure di un movimento che diventavano sempre più complessi da vedere. Ehm in realtà la presenza di profili neuropsicologici peculiari con dei deficit specifici eh nel riconoscimento del visivo degli oggetti e le immagini oppure eh deficit specifici delle abilità viso spaziali o viso costruttive è già stato riportato in letteratura eh nei bambini pretermine con l'eucomalacia per i ventricolare ehm però quello che è stato visto è che questo tipo di disturbo di cosiddetti di tipo di ordine più visuo cognitivo eh in realtà non a differenza del delle delle altre funzioni visive di base come avevamo visto nello studio che appunto effettuato a Pisa eh che vi ho fatto vedere prima eh in realtà invece non sembrano correlate in maniera specifica alla ehm alla lesione effettivamente della sostanza bianca ma sembrerebbero più correlati a un malfunzionamento generale del processamento visivo eh tipico del nato pretermine e presente in questi bambini anche quando non interessati direttamente dalla lesione cerebrale effettivamente già il gruppo appunto di Pisa prima prima che arrivassi io eh aveva eh visto come eh un ehm come il deficit delle funzioni parietali e nello specifico l'appunto la percezione del movimento di traslazione e di rotazione fosse deficitaria nei bambini pretermine in maniera uguale e se questi avevano lesione lesione cerebrale oppure se non l'avevano entrambi avevano profili molto simili nella percezione appunto della del movimento di traslazione e di rotazione e molto differenti invece dai bambini nati a termine questa cosa non era uguale non valeva ugualmente invece per il per le funzioni più ventrali più temporali quindi la percezione della forma che invece eh mostrava come vi fosse un profilo tra i nati a termine e i nati pretermine senza lesione molto simile invece il deficit sembrava appunto specifico dei bambini pretermine proprio con l'eucomalacia per i ventricolare e effettivamente la presenza di una particolare vulnerabilità dei network dorsali ehm e quindi della via visiva dorsale è stata riportata in letteratura ed è stata ampiamente studiata in particolare da Atkinson e Braddy che sono forse i due curiosi e io non sento niente scusate o c'è qualcuno che eh no scusate e allora aspetta Giulia c'è qualcuno che ha il microfono acceso? ok va bene allora puoi continuare a parlare chiudete il microfono se no eh la dottoressa pulpra un rimbomba non riesce a parlare bene ok? Grazie ehm appunto dicevo la presenza di una vulnerabilità specifica della via dorsale e dei network parietali ehm è appunto un un argomento molto riportato ormai in letteratura dicevo Atkinson e Braddy che sono i i due studiosi ancora mh diciamo viventi che si sono eh che hanno più eh ma che hanno maggiormente studiato questo eh tipo di eh di ipotesi e appunto sembrerebbe infatti che ehm queste e le funzioni di appunto di questo specifico network ehm eh siano spesso mal funzionanti in molte popolazioni di bambini e eh addirittura molti bambini con disturbo del neurosviluppo eh anche bambini con disturbi diversi del neurosviluppo quindi con sintomatologia molto diversa quindi dai disturbi dell'apprendimento ai disturbi della coordinazione ai disturbi dell'interazione sociale abbiano però alla base in comune in realtà una disfunzione di alcune abilità come per esempio le eh abilità di distribuzione dell'attenzione visiva dell'integrazione visomotoria e dell'esplorazione visiva ed effettivamente l'ipotesi della dorsal stream vulnerability è ormai eh appunto ampiamente riportata in letteratura e infatti anche nei soggetti a sviluppo tipico si è visto a livello cognitivo che c'è un'alta sensibilità della che è un'alta sensibilità nella percezione del movimento che appunto è un indice dell'integrità della via dorsale è appunto associata a buone competenze di integrazione visomotoria e anche a buone competenze in alcune abilità scolastiche quale per esempio il giudizio di numerosità o le abilità matematiche. D'altro canto però invece disordini dell'azione motoria che hanno alla base una disfunzione viso spaziale e difficoltà proprio nella traslazione delle informazioni percettive nell'azione manuale sono state riscontrate frequentemente nei bambini pretermine in assenza di lesione ma anche in molti altri disturbi del neurosviluppo. Io per esempio vi ho portato questo studio pilota e mi faceva piacere appunto farvi vedere questo appunto è un poster che abbiamo portato a un convegno recentemente quindi stiamo cercando di ampliare la numerosità ancora del campione però i dati sono molto interessanti e in questo caso abbiamo per esempio studiato un altro disturbo del neurosviluppo che è il disturbo della coordinazione motoria quindi bambini intelligenti che però appunto hanno specificatamente un disturbo relativo proprio alla pianificazione dell'azione e all'organizzazione dell'azione e appunto quello che abbiamo visto è che questi bambini che comunque sono integri dal punto di vista cognitivo non mostrano nessuna differenza rispetto ai soggetti con sviluppo tipico nelle abilità appunto tipiche della via ventrale quindi per esempio la percezione della forma mentre mostrano del deficit specifici in due funzioni che sono specificatamente parietali che sono la percezione del movimento e la percezione del tempo ehm un altro eh insight insomma che ci viene dalla letteratura molto interessante riguardo alla vulnerabilità della via dorsale è quello dell'autismo perché perché già da un po' di tempo la la diciamo la ricerca ci sta dicendo che effettivamente ehm alcuni difficoltà alcune difficoltà nella processazione degli stimoli sensoriali e nell'organizzazione nella coordinazione motoria sembrano essere presenti nel bambino con autismo probabilmente come già insomma chi si occupa di clinica già sapeva in un'epoca molto precoce quindi in realtà molto prima che emergano poi i ehm cosiddetti sintomi core dell'autismo cioè i sintomi relativi più alla sfera sociocomunicativa e effettivamente la letteratura al riguardo soprattutto relativamente per esempio alle problematiche di processazione visiva è molto cresciuta negli ultimi anni al punto che anche nel nel manuale diagnostico DSM nell'ultima versione il disturbo della processazione sensoriale è addirittura diventato uno dei criteri di per poter fare diagnosi di autismo è effettivamente e appunto eh tanti eh spunti di riflessione ci provengono proprio da questo disturbo del neosviluppo e vi ho portato un eh uno studio molto interessante eh fatto appunto dai colleghi di Pisa ehm in cui stavolta è stata studiata invece la percezione del movimento biologico del grasping quindi diciamo del prendere l'oggetto che è l'azione diciamo visuomotoria per eccellenza e questo è stato studiato in questi bambini in due modalità è stato studiato in prospettiva egocentrica quindi abbiamo il classico stimolo di percezione del movimento e in cui ci sono i pallini che formano in questo caso una mano che va a prendere un oggetto e appunto come se l'oggetto lo stesse prendendo il bambino diciamo in prima persona come se lo stesse prendendo il bambino che sta facendo l'esperimento e appunto il bambino doveva dire se la mano stava prendendo un cubetto un cilindretto e poi la stessa cosa veniva proposta in prospettiva allocentrica quindi diciamo in terza persona e per cui gli stimoli stavolta lo stimolo della mano appunto prendeva l'oggetto come se fosse la mano di un'altra persona che veniva verso il bambino e anche in questo caso il bambino doveva dire se la mano aveva preso il cubetto il cilindretto quello che è stato visto è molto interessante perché in realtà si è visto che in questi soggetti il giudizio egocentrico è assolutamente uguale ai bambini con sviluppo tipico mentre c'è un deficit specifico della percezione del giudizio allocentrico nei bambini con autismo proprio come se questi bambini facessero fatica ad estrarre le informazioni sensoriali significative ma solo quando quell'azione viene effettuata da un'altra persona ok e la cosa ulteriormente interessante era che questo difficoltà nella percezione del movimento allocentrico era significativamente correlato proprio alla sintomatologia autistica e effettivamente la percezione autistica degli stimoli sociali e degli stimoli non sociali è un argomento molto dibattuto e su cui molti diciamo contributi sono stati dati e anche da individui autistici e con autismo ad alto funzionamento per esempio tempo il grandin la professoressa che è insomma molto famosa è stato fatto anche un film molto importante su di lei è che hanno cercato di spiegarci come loro abbiano proprio una diversa processazione degli stimoli degli stimoli sensoriali a volte anche più dettagliata però in realtà e questo gli permette in realtà di avere di invece non gli permette diciamo estrarre e quindi di riutilizzare le informazioni sensoriali significative dall'ambiente esterno per poter riutilizzare diciamo in nuove esperienze e quindi prendere memorizzare e riutilizzare speria e diciamo eh stimoli ehm eventi dagli esperienze precedenti per una nuova eh per un nuovo evento e questo cosa fa sì fa sì che in realtà eh questi soggetti abbiano poi una minore aspettativa rispetto a quello che sta per accadere intorno a loro e questo appunto gli crea un grosso problema perché non sapendo cosa aspettarsi nei fatti poi attuano spesso un comportamento che in realtà risulta inadeguato rispetto eh è inadatto eh rispetto al contesto che si sta verificando intorno a loro e effettivamente con il gruppo di pizza eh c'eravamo concentrati molto sulle difficoltà percettivo motorie di bambini con disturbo dello spettro autistico avevamo studiato attraverso dei questionari ai genitori le difficoltà che i bambini con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento quindi cognitivamente adeguati avevano nelle attività di vita quotidiane quello che si è visto è che mostravano delle difficoltà specificatamente visuomotorie in particolare in ambiente dinamico e impreveribile quindi quando erano intorno a loro altre persone che si muovevano quando succedevano altre cose intorno a loro e ehm queste difficoltà ehm motorie erano correlate con la frequenza eh il numero di stereotipie motorie ok che sono abbastanza sono diciamo eh uno dei sintomi tipici del bambino con autismo quindi una più alta intensità e frequenza di comportamenti ripetitivi e in particolare di comportamenti ritualistici era presente nei bambini con maggiori difficoltà motorie come se la difficoltà nel prevedere attraverso appunto le esperienze anche visive precedenti gli effetti degli eventi circostanti facesse sì che loro avessero più difficoltà poi a modificare con flessibilità il loro comportamento motorio ed effettivamente eh a quel punto abbiamo deciso poiché le stereotipie in realtà sono maggiormente visibili nel bambino con autismo dai due anni abbiamo eh vi cercato di capire se queste fossero correlate eh a una difficoltà sensoriale specifica di questi bambini e se questi quindi fossero presente in un'epoca molto precoce quindi appunto prima che eh si eh verificassero eh poi i i venissero fuori i sintomi più sociocomunicativi e quindi abbiamo eh effettuato questo studio retrospettivo attraverso grazie all'archivio ormai negli anni enorme del professor Muratori e del dottore Apicella che hanno raccolto negli anni tantissimi filmati familiari eh di bambini eh che al momento che che loro li hanno conosciuti hanno ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico ma loro appunto hanno chiesto tutti i video i filmati fatti in famiglia per esempio durante il compleanno piuttosto che durante il bagnetto eccetera negli anni precedenti ok quindi molto prima della diagnosi e abbiamo studiato in questi eh filmati gli episodi di movimenti ripetitivi cioè la ripetizione per almeno due volte consecutive di un pattern di movimento identico e di una di una specifica parte del corpo ehm ovviamente questi movimenti sono presenti già normalmente anche nel bambino con sviluppo tipico perché sono quei movimenti che permettono al bambino di ehm esplorare il proprio corpo capire cosa può fare col proprio corpo eh ma quello che abbiamo cercato di studiare è appunto la frequenza e la durata di questi episodi confrontandoli con filmati ovviamente in cieco con filmati familiari eh di eh bambini anche che poi avevano ricevuto una diagnosi di disabilità intellettiva appunto di disturbo dello spettro autistico invece bambini che avevano avuto uno sviluppo tipico e quello che abbiamo visto è che appunto il ehm le in questi bambini quelli che poi hanno ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico eh c'era una netta una una presenza maggiore nettamente maggiore di questi episodi di movimenti ripetitivi bilateralmente a livello eh delle gambe delle braccia delle mani e delle dita e questo lì eh distanza insomma li differenziava non solo dei bambini con sviluppo tipico ma anche dei bambini con disabilità intellettiva e vi ho portato un video che appunto vi fa vedere bene eh come un bambino molto piccolo in un'età in cui dovrebbe utilizzare il corpo per entrare in relazione è già molto attratto visivamente invece dal suo movimento dei piedi della della testa e del tronco effettivamente le difficoltà eh motorie e visuomotorie nel bambino con disturbo dello spettro autistico o a rischio di disturbo dello spettro autistico ehm sono state rilevate addirittura in questo studio eh le abilità motorie a sei mesi in particolare nel dominio proprio dell'integrazione visuomotoria si è visto che distinguono i bambini ad alto rischio di disturbo dello spettro autistico che praticamente sono i cosiddetti sibling cioè i fratellini che quindi per cause ovviamente genetiche sono maggiormente si reputano maggiormente a rischio di disturbo dello spettro autistico e distinguono questi bambini ad alto rischio addirittura sia rispetto a quelli ad alto rischio che non sviluppano autismo e anche rispetto ai bambini a basso rischio non solo quello che si è visto è che i punteggi nei domini in alcuni domini motori tra cui appunto il grasping sembrano essere predittivi del livello di linguaggio espressivo a ventiquattro trentasei mesi quindi quello che si pensa è che appunto le abilità visuomotorie precoci abbiano un impatto sostanziale nell'evoluzione delle abilità comunicative necessarie poi per l'evoluzione del linguaggio ed effettivamente se ci pensiamo eh tutto quello che riguarda lo sguardo il modo di utilizzare lo sguardo l'esplorazione visiva è assolutamente essenziale per lo sviluppo di alcuni prerequisiti del linguaggio anche di tipo non verbale quali per esempio l'iniziativa nell'attenzione condivisa e limitazione sociale contingente quindi l'idea è che il sistema senso motorio in questi bambini sia in realtà poco flessibile e questa poca flessibilità incida in maniera negativa nella strutturazione degli stimoli ambientali significativi eh nell'estrarre appunto il significato da questi stimoli nella ehm nella nel poter riutilizzare questi stimoli proprio per costruire il linguaggio e eh quindi bambino sembrerebbe far fatica proprio a rilevare e quindi interpretare adeguatamente gli stimoli dall'ambiente e riutilizzarli poi per interagire con l'ambiente. Nello stesso tempo però dalla psicobiologia dello sviluppo sappiamo anche che i periodi sensibili per le funzioni sensoriali e per le funzioni motorie eh avvengono si si verificano molto presto nella vita dell'individuo e in punto sappiamo che in questi periodi la plasticità cerebrale ha il suo picco ehm sappiamo per esempio che per quanto riguarda la gli sistemi sensoriali i periodi sensibili sono tutti tra i nei primi dodici diciotto mesi di vita mentre per le funzioni motorie entro diciamo i i due anni di vita eh e questo perché è importante? È importante perché in realtà no in questo modo conoscendo questi processi e sapendo anche che esistono eh strumenti adeguati per poter rilevare precocemente alcune difficoltà sensomotorie possiamo intervenire precocemente nei bambini appunto eh cosiddetti a rischio di disturbo del neuro sviluppo sviluppo. Eh sappiamo infatti che le caratteristiche dell'ambiente in cui un soggetto si sviluppa hanno un effetto proprio sul ehm eh sul sullo sviluppo risultano fondamentali perché modificano profondamente l'assetto costituzionale e la biologia dell'individuo e proprio per questo motivo eh già da un po' di tempo si è posta molto molto attenzione sul concetto al concetto di ambiente arricchito che è appunto un paradigma utilizzato eh inizialmente in laboratorio eh che consiste proprio nella combinazione di stimoli multisensoriali complessi inanimati e sociali ehm che se visto hanno un effetto sul grado di plasticità cerebrale e quindi sulla maturazione del sistema nervoso centrale. Questo paradigma si è cercato poi di portarlo nell'essere umano attraverso un tipo di stimolazione che è il massaggio infantile nel neonato prematuro inizialmente la il massaggio infantile è appunto una stimolazione multisensoriale piacevole eh che è piacevole sia per il bambino che la riceve sia per la mamma che lo esegue eh non invasiva e si è visto infatti come questa ehm questo tipo di stimolazione nel bambino molto piccolo eh abbia poi gli stessi effetti eh ottenuti in laboratorio proprio di maturazione di un'accelerata maturazione di alcune funzioni cerebrali ehm appunto in particolare visive eh per verificare quanto e come questo tipo di paradigma sia efficace e in quale appunto disturbi del neurosviluppo eh si potesse attuare abbiamo provato ad utilizzarlo con il neonato o con sindrome di Down e quindi con patologia genetica e mh anche in questo caso abbiamo rilevato che i neonati con sindrome di Down massaggiati precocemente rispetto ai non massaggiati avevano un trend di sviluppo più veloce di alcune funzioni visive e praticamente poi in particolare l'acuità visiva e la stereopsi che in ehm in poche parole erano un po' indice quindi di una maturazione anche in questo caso più rapida del sistema nervoso centrale quindi diciamo che questo tipo di arricchimento ambientale sembra essere presente anche quando c'è una deprivazione magari sensoriale dovuta però a diciamo una base genetica ok come nel caso della sindrome di Down in realtà la riabilitazione basata sull'approccio multisensoriale è un tipo di di intervento appunto che sta sempre di più si sta attuando e che è appunto in letteratura anche qui le evidenze sono ancora poche ma stanno crescendo e sembrano abbastanza incoraggianti e riguardano fondamentalmente due ambiti di ricerca da un lato l'intervento multisensoriale precoce nei bambini a rischio di disturbire il neurosviluppo che appunto sono gli esempi che vi ho portato poco fa dall'altro la presenza eh già invece l'utilizzo della multisensorialità nei soggetti con disturbo visivo. Ehm è stato dimostrato per esempio dalla professoressa Bolognini che tra l'altro appunto ora è qui in Bicocca e al dipartimento di psicologia anche se all'epoca di questo studio non lavorava in Bicocca eh ma da altre parti con la professoressa Ladava se lei aveva dimostrato che la stimolazione audiovisiva intensiva ehm migliorava appunto la le performance ehm le performance di ricerca visiva in soggetti adulti ehm con disturbo del campo visivo dovuto a lesioni cerebrali e eh successivamente noi collaborando con questo gruppo di ricerca abbiamo cercato di portare di verificare questa l'efficacia di questo trattamento anche nei bambini che avevano avuto una lesione acquisita durante l'infanzia eppure in questo caso abbiamo visto ehm come ci fosse in questi bambini eh una un miglioramento delle abilità di rilevazione degli stimoli visivi e della di nelle abilità di ricerca visiva anche nell'emicampo cieco ehm e appunto ah e che rimanevano anche dopo molto 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 tempo eh l'idea è appunto che la stimolazione intensiva dei neuroni multisensoriali del collicolo superiore eh potrebbe un po' indurre una riorganizzazione a livello di alcuni circuiti mediati dal mesencefalo e dalla e della della corteccia associativa favorendo quindi il recupero di alcune abilità di alcuni comportamenti visivi e oculomotori e questo effetto poi abbiamo cercato di ehm eh riverificarlo di riottenerlo e attraverso un trattamento sempre multisensoriale audiovisivo però stavolta in teleriabilitazione perché perché in questo modo poteva essere un trattamento ancora più intensivo e soprattutto ecologico perché portato direttamente eh a casa del paziente. Quello che abbiamo visto è che appunto c'era un miglioramento ancora una volta sostanziale delle abilità di ricerca visiva ma in questo caso abbiamo anche iniziato in alcuni soggetti a studiare eventuali modifiche con eh della connettività cerebrale con eh delle attivazioni dei corticali del al con la risonanza magnetica funzionale e quello che abbiamo visto è che appunto per esempio in questo caso che era è il caso di un giovane adulto che eh aveva subito appunto intorno ai diciassette o diciott'anni una ehm asportazione del lobo cipitale per un'epilessia farmacoresistente si vede che c'è una grossa differenza nell'attivazione del dell'emisfero eh sano quando viene stimolato il campo visivo cieco che in poche parole sarebbero i colori viola e il colore rosso che come si vede tra prima e dopo il training cambiano sensibilmente quindi abbiamo deciso di ovviamente studiare meglio i processi multisensoriali che stanno alla base e che possono appunto eh cambiare eh eh diciamo le performance di eh questi soggetti con disturbo del campo visivo e appunto stiamo ancora portando avanti questo studio e insieme appunto all'ospedale Meyer sempre la fondazione Stella Maris e a capo di tutti ci abbiamo appunto la professoressa Bolognini che appunto ci ha fatto vincere un ehm bando appunto eh di ricerca finalizzata giovane ricercatore in cui cercheremo di capire meglio stiamo cercando di capire meglio gli effetti e i mescanismi sottostanti ehm nel bambino e nell'adulto disturbo del campo visivo. Per concludere poi abbiamo cercato eh infine di comprendere meglio le competenze multisensoriali, i processi multisensoriali visoaptici proprio per ritornare al discorso che avevo fatto all'inizio proprio sull'integrazione viso tattile e eh quello che abbiamo fatto è appunto creare una batteria eh per studiare eh le capacità di eh riconoscimento visivo del eh scusate di riconoscimento degli oggetti di uso quotidiano attraverso la modalità esclusivamente visiva, la modalità aptica e la modalità viso in bambini appunto dal quattro agli undici anni. Ehm quello che abbiamo visto è anche in questo caso almeno sembra molto interessante perché in realtà quello che si vede è che i processi multisensoriali visoaptici sono già presenti molto precocemente nel bambino perché già a quattro cinque anni il bambino in qualche modo è capace di beneficiare della mh del transfer bimodale per riconoscere gli oggetti in maniera migliore rispetto alla ehm alla sola modalità visiva o aptica. Però eh questa mh questi processi in realtà maturano molto lentamente durante tutta l'età scolare e a quattro cinque anni in realtà sono ancora molto immaturi addirittura raggiungono livelli simili a quelli dell'adulto solo alla fine della scuola elementare quindi solo dopo gli otto nove anni. E a questo questo ovviamente era il punto di partenza per poter spiegare e per poter comprendere meglio i meccanismi visoaptici nel bambino ovviamente con disabilità del dello sviluppo. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è stato eh prima di ehm cercare di comprendere se c'erano differenze né sempre nei bambini eh prematuri con l'eucoma alla scia periventricolare che appunto era era una popolazione che ormai eh conosciamo bene e quello che abbiamo visto è che in realtà questi eh soggetti con acuità visiva comunque sufficiente e con quotiente intellettivo verbale nella norma avevano comunque dei deficit sia nel riconoscimento di oggetti sia nella modalità eh nelle modalità unimodali visive o aptiche sia nella modalità ehm bimodale quindi visoaptica eh però appunto mh diciamo che il trend di sviluppo eh rispetto ai bambini con sviluppo tipico era molto simile semplicemente molto molto più lento in tutte e tre le modalità però comunque simile anche loro riuscivano in qualche modo a beneficiare dell'integrazione multisensoriale. Quello che invece abbiamo visto essere molto diverso è il comportamento del dei bambini con disturbo visivo congenito da eh patologia oftalmologica e quindi eh bambini povedenti gravi e con appunto eh però cognitivamente adeguati quello che abbiamo visto è che questi soggetti invece non riescono eh a beneficiare nello stesso modo dell'integrazione visoaptica perché perché in realtà tra loro e i soggetti con sviluppo tipico non c'è ci sono ovviamente inevitabilmente differenze per quanto riguarda la modalità unimodale visiva perché sono sono ipovedenti mentre la modalità eh aptica è assolutamente uguale quindi si sviluppa in questi bambini in maniera identica a quella dei bambini con sviluppo tipico quindi anche senza l'aiuto della vista di conseguenza l'unione delle due modalità non riesce è semplicemente una somma ma non riesce ad avere a dare un reale beneficio perché probabilmente la modalità aptica sovrasta troppo la modalità unimodale visiva ovviamente il lo step ultimo è quello e l'abbiamo quasi completato di verificare invece come la processazione il transfer visoaptico per il riconoscimento di oggetti di uso quotidiano possa essere se è diverso e com'è nel bambino e nei bambini con disturbo dello spettro autistico proprio per eh relativamente alle difficoltà che abbiamo visto appunto prima ehm che che ho citato prima eh in conclusione appunto vi porto quello che sto cercando di eh portare di fare insieme alla professoressa Nacinovic che spero inizierà a breve che sono fondamentalmente i diciamo questi primi tre progetti che stiamo cercando di attuare stiamo in attesa di approvazione dal comitato etico grazie poi anche all'aiuto dei colleghi della neuropsichiatria infantile e che sono il progetto mind che è appunto riguarda l'identificazione la presa in carico precoce dei disturbi del neurosviluppo nel bambino prematuro eh il progetto vision che invece cerca vuole analizzare specificatamente il profilo viso percettivo di bambini con disturbo del neurosviluppo in età prescolare e scolare bambini con disturbo del neurosviluppo di vario tipo quindi dall'autismo al disturbi dell'apprendimento ai disturbi della coordinazione motori eccetera e poi il progetto super che invece è uno studio di fattibilità che stiamo portando avanti insieme a un gruppo di Napoli eh riguardante appunto una piattaforma educativo riabilitativo per la presa in carico della eh dei disturbi appunto della famiglia e dei bambini con disturbo dello spettro autistico che è fra l'altro una piattaforma che proprio qualche giorno fa abbiamo saputo ricevere un premio internazionale molto molto importante e mi fermo qui spero che sia stato interessante e grazie a tutti voi per l'attenzione grazie mille Giulia davvero interessante e difficile complesso penso che c'è c'è tantissimo qua da studiare perché forse più più si indaga cioè sì più si trova e poi mi colpisce molto del il fatto che eh questi bambini abbiano dei difetti così specifici alcuni eh cioè pensavo sì insomma più generalizzato invece voi riuscite a identificare del dei difetti specifici esatto forse nel futuro serviranno proprio per fare diagnosi così esattamente l'idea è proprio è proprio questa cioè cercare e e un po' quello che abbiamo in mente di fare con la professoressa qui cioè di anticipare più che altro la rilevazione di alcuni eh appunto di alcuni segnali che di solito magari via via vengono fuori in età prescolare scolare perché il bambino magari va a scuola e quindi si vedono no in maniera più eclatante ma che in realtà sono presenti da prima e che quindi in qualche modo possono già eh diciamo influenzare in realtà tutta la traiettoria eh evolutiva del bambino anche in ambiti che magari in realtà non 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 penseremmo che eh ci fossero poi deficit ecco proprio perché nel bambino lo sviluppo psicomotorio le domini nello sviluppo psicomotorio sono tutti molto correlati eh e eh integrati tra loro più che nell'adulto essendo una eh appunto un essere no in maturazione in evoluzione cioè cosa che penso allora nel futuro sarà il caso che tutti i bambini facciano una visita neuropsichiatrica adesso mi uccideranno però per identificare dei difetti sicuramente ci sono tutta una serie di bambini per esempio i prematuri eh appunto senza lesione che spesso vengono diciamo eh seguiti dal punto di vista magari più dei parametri auxologici no? Per cercare di verificare che tutto poi prosegua bene a livello fisico e spesso in realtà poi non vengono eh diciamo seguiti eh dal punto di vista invece neuropsichiatrico quando in realtà ormai la letteratura ci dice che anche in assenza di lesione cerebrale sono fortemente a rischio in realtà di disturbi eh del neurosviluppo. Certo bisogna avere una particolare attenzione anche di su questa cosa. L'altra considerazione è che nella mia ignoranza mh ho sempre faticato a pensare che tutte queste attività siano misurabili e invece è invece è scienza ovviamente anche questa. Non è così. Spesso non viene considerata scienza ma in realtà lo è. No no lo vedo perché è tutto cioè è tutto misurabile, quantificabile e non è solo una percezione soggettiva voglio dire. Assolutamente sì e sono appunto tutti strumenti appunto che ormai sono ampiamente validati in letteratura. Mi fa molto piacere sono contento di aver scoperto questo mondo. Allora se posso posso fare una domanda? Allora prima di tutto complimenti Giulia. Non è cosa hai detto? Chi te lo potrebbe mai impedire? Il fatto che non è il mio gruppo Giulia noi siamo quattro e lavoriamo insieme non è il mio gruppo. Va bene. Va bene. Allora prima di tutto complimenti per la tua presentazione che è appunto molto complessa. Hai lavorato tanto e veramente complimenti. Grazie. Ha molto soltito anche perché l'argomento è veramente interessante e come avete detto voi mi ha fatto pensare un po' alle le bambole russe no? Quella che apri una nesce un'altra nesce un'altra nesce un'altra. Le matriosche. Fino a quando? Le matriosche. Fino a quando? È la vecchia è una brutta cosa che dimentico le parole. Allora una cosa che mi ha colpito molto e ci sono due cose che mi hanno colpito. Una è il massaggio che viene fatto. Questo massaggio che in un certo senso ha un potere curativo. Questo spiega anche perché molti bambini che sono diciamo abbandonati e vivono negli istituti quando poi praticamente non ricevono eventualmente la quantità di coccole sufficienti mostrano comunque a volte un certo tipo di ritardo. Però quello che io ti chiedo è questo tipo di massaggio, il bambino, il risultato è diverso se il massaggio viene fatto dai genitori o da un estraneo? Allora in realtà gli studi sono ancora pochi però per esempio quello che posso dire è che per esempio il primo studio sui prematuri è stato fatto da una terapista della terapia intensiva neonatale quindi comunque era un estraneo per il semplice fatto che essendo in terapia intensiva e ovviamente le mamme non potevano entrare per tempi molto lunghi mentre in quello che ho fatto e che ho partecipato io sui down è io lo insegnavo alle mamme. E quindi se c'è differenza? No perché in realtà abbiamo ottenuto praticamente gli stessi risultati. Ovviamente andrebbe questo dal punto di vista delle funzioni visive e verosimilmente se noi andiamo ad indagare tutta una serie di funzioni più relazionali immagino di sì però ecco a livello è quello che vorrei studiare una delle cose infatti ne avevo parlato anche con la dottoressa Nespoli qualche giorno fa perché appunto l'idea è un po' quella di capire se sicuramente fa bene in ogni caso perché sicuramente una stimolazione arricchente aggiuntiva eccetera però ehm quello che vorrei verificare è se questo eh cambia a seconda di chi lo fa innanzitutto e poi quello che vorrei fare è farlo sul bambino sano a termine perché secondo me ehm nel caso dei prematuri e nel caso dei della sindrome di down comunque inevitabilmente abbiamo dal punto di vista biologico necessariamente due tipologie di bambini che in qualche modo sono per motivi diversi deprivate di stimoli ok? I prematuri perché sono in tappia intensiva neonatale i down perché inevitabilmente sono bambini che si muovono meno eccetera quindi ovviamente arricchire un ambiente deprivato che abbia sulla biologia in qualche modo un effetto è in qualche modo prevedibile seppure ci vogliono le evidenze e tutto ma è prevedibile quello che vorrei fare io per esempio è vedere se anche in una situazione di normo stimolazione quale può essere il bambino tipico eh eh questo comunque effetto sulla maturazione cerebrale ha effe ah c'è comunque allora quella sarebbe veramente dire che è biologicamente la stimolazione multisensoriale efficace non so se mi sono spiegato ti ho capito benissimo sì 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 anzi ti ringrazio mentre invece allora per quanto riguarda invece il discorso dell'autismo che è un discorso che mi ha sempre molto affascinato sebbene non ne abbia alcuna confetta competenza però mi ha sempre molto affascinato allora tu parlavi di bambini autistici di sei mesi è possibile? No sono bambini a rischio cioè diciamo che gli studi mh sull'autismo precoce eh si dividono in due grosse categorie eh prima venivano effettuati studi come quello che appunto ho fatto sulle sui movimenti ripetitivi e retrospettivi quindi si analizzano i filmati in questo caso familiari eh di mh precoci quindi per esempio il primo bagnetto il primo compleanno è che tutte le famiglie fanno soprattutto prima quando c'erano le mega telecamere facevano no? Ehm e però che vengo veramente ci venivano dati noi li chiedevamo al bambino che a tre anni aveva autismo ok gli dicevamo ma ci portate i vostri vecchi video di quando il bambino aveva sei mesi? Ok è ora uno studio ovviamente sono studi un po' naif però comunque e sono stati i primi che ci hanno permesso di vedere che in realtà alcune difficoltà c'erano erano già presenti molto prima che poi i sintomi core venissero fuori adesso invece si fa si lavora sul in maniera prospettica e da un po' di tempo sono studi molto più complicati però sono ehm praticamente analizzano in maniera longitudinale i sibling cioè i fratellini dei bambini già diagnosticati con autismo quindi si chiede alle alle mamme ai genitori eh di bambini che magari aspettano il secondo figlio e hanno un bambino con già un primo figlio con disturbo dello spettro autistico se sono disponibili a collaborare seguendo facendo un follow up delle funzioni durante eh i primi tre anni di solito del bambino ok e questo perché perché appunto dando per scontato che alla base dell'autismo ci sia comunque un deficit seppur poi multifattoriale è tutto però alla base ci sia una disfunzione genetica e quello che si pensa è che ovviamente quindi i fratellini sono soggetti inevitabilmente a rischio perché potrebbero avere nel loro patrimonio genetico fondamentalmente la stessa disfunzione dei fratellini già diagnosticati per cui quello che si fa è seguire questi bambini cosiddetti ad alto rischio e vedere se c'è eh le eh diciamo studiare le traiettorie evolutive quindi da un lato abbiamo i i fratellini che effettivamente eh poi sviluppano anche loro autismo che sono tanti abbiamo bambini che invece i altri fratellini che invece non sviluppano autismo anche se spesso sviluppano altri disturbi minori del neurosviluppo per esempio disturbi del linguaggio disturbi della coordinazione motoria e e poi abbiamo invece vengono ovviamente confrontati con bambini a basso rischio cioè bambini che in realtà dal punto di vista genetico rispetto alla storia familiare eh non dovrebbero avere un rischio diciamo aumentato eh di eh per sviluppare il disturbo dello spettro autistico quindi appunto a riuscire ad avere già a sei mesi un indizio di autismo sarebbe estremamente importante e è infatti è quello che stiamo cercando vorremmo fare nel progetto mind cioè seguire in nostro caso non i fratellini ma i bambini prematuri che però abbiamo visto sono comunque molto a rischio di disturbo del neurosviluppo per cercare alcuni diciamo indici percettivo motoriche che è eh di disturbo nelle epoche successive è perché appunto quanto prima si interviene tanto meglio poi può essere la risoluzione assolutamente come il discorso dei movimenti ripetitivi dei bambini autistici io mi ricordo cioè che avevo avevo letto un libro in cui ehm vabbè in cui si diceva che l'autismo era colpa della mamma tante tante le proprie lecche e vecchi testi sull'autismo che ti facevano chiangelo cuore come si dice eh però eh dicevano che i movimenti ripetitivi dovevano essere impediti invece a quanto pare i movimenti ripetitivi non devono essere perché è una manifestazione della partecipazione vero? Diciamo che alcuni eh trattamenti riabilitativi ancora prendono eh usano il rinforzo negativo quando per esempio il bambino effettua il disturbo cioè di movimenti stereotipati però in realtà eh moltissimi diciamo quello che pensiamo noi è che in realtà questo non porti a nulla e quindi di solito ovviamente si devono cercare delle strategie per diminuirli per rendere il comportamento il più possibile contestuale no? Dove vive il bambino però eh questo non vuol dire toglierli proprio perché in molti casi questi sono proprio dei compensi nei fatti che il bambino comunque dei segnali che il bambino dà all'ambiente eh rispetto al disturbo di processazione sensoriale che ha quindi forse è che invece di pensare di modificare il bambino dovremmo iniziare a pensare di modificare noi l'ambiente intorno al bambino. La penso esattamente come come ti ehm adesso ho finito le domande come al solito faccio la più potente eh Gai a te la parola. Sì anch'io invito gli altri che hanno delle domande a farle direttamente in chat. Io volevo posso visto che per il momento no non è ho capito che non è proprio questo il campo però per i difetti invece per i ferici come hai fatto vedere tu difetti già del campo visivo oppure io penso tutte le patologie genetiche. Mh. anche dallo studio che avevamo fatto sul viso aptico è che però se io porto il bambino a comunque utilizzare il suo residuo visivo eh il meglio possibile fin dalle prime fasi dalle fasi più precoci eh è molto eh molto probabile che lui comunque poi spontaneamente tendi a di tenda ad integrarlo alle altri stimoli sensoriali alle altri sistemi sensoriali. Quello che succede spesso è che invece prima succedeva di più per fortuna ora meno. Lo esclude? Esatto prima si tendeva non lavorandoci la corteccia occipitale nei fatti se lo scorda per cui a quel punto non riesce ad utilizzare più quella o comunque ad utilizzarlo male quello quel tipo di stimoli perché tendono a prevalere gli altri ma in realtà anche qui è proprio per il discorso dei periodi sensibili se io agisco invece molto molto precocemente io insomma a Pisa ne ho avuti tanti bambini piccolissimi in trattamento visivo eh in realtà se io fin da subito lo abituo in realtà il cervello in qualche modo si riorganizza. È ovvio che io non avrò un miglioramento più di tanto nell'acuità visiva ma l'avrò nell'utilizzo nella processazione dello stimolo visivo che in questo modo viene integrato meglio con gli altri stimoli sensoriali e tra l'altro alcuni gruppi di ricerca soprattutto il gruppo della Dale a Londra ha visto che eh se io eh faccio questo lavoro con questi bambini il rischio invece che si sviluppino disturbi cognitivi e sociocomunicativi in età eh più avanzate si riduce incredibilmente quindi non dovremmo farlo solo per per il visivo in sé ma dovremmo farlo un po' perché se io lavoro sul visivo e qualche modo comunque il bambino riesce anche un minimo ad utilizzare gli stimoli visivi in qualche modo si adatta meglio al nostro all'ambiente che poi è un ambiente visivo e quindi eh il suo comportamento sarà maggiormente adattivo. Per lo stesso motivo per cui dicevi giustamente che i difetti visivi hanno poi una ricaduta. Esattamente. Esattamente. Hai fatto davvero tanto lavoro già ma chissà quante sindrome no mi viene da assolutamente. Eh tutto da un sacco di lavoro anche da fare. Per esempio una cosa che mi sono mi sono per cui insomma che ho trattato però avevo pochi bimbi per cui non ho mai potuto fare in realtà uno studio vero e proprio però è la sindrome di Barted Beedle che ha tipicamente una retinopatia no? E incredibilmente guarda caso in letteratura è riportato anche che hanno un'alta frequenza di disturbi ossessivi. Va. Chissà perché. E di comportamenti ripetitivi. Vabbè allora come comportamenti ripetitivi c'è la sindrome Tourette? Quella è un po' diversa perché alla base c'è un meccanico. Allora io non sono non ne capisco però c'è alla base un disturbo neurobiologico un po' diverso. Però per esempio nella sindrome di Barted Beedle è una cosa molto peculiare perché appunto questi bambini nonostante abbiano un deficit comunicativo hanno sempre bisogno di situazioni rutinarie molto uguali a se stessi. Sono un po' ossessivi e guarda caso però hanno anche la retinopatia precoce. Sarebbe una cosa da indagare per capire se viene prima l'uovo o la gallina ecco. Hai cioè come si dice delle idee molto che vogliono andare molto scopanti. Ti auguriamo di realizzare. Sono sorprende per adesso. Complimenti davvero. Grazie. Ci sono altre? Ci sono altre? Ok. Devevo farlo tutti io e te Gaia. Sì direi che l'abbiamo abbastanza spremuta. Io vi ringrazio, ti ringrazio Giulia, ringrazio la professoressa Nacinovic e quando avrai altri dati noi siamo qua per un altro seminario. Speriamo presto. Complimenti Giulia. Grazie per realizzare le cose per dividere i risultati. Esatto. Va bene allora un saluto a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Complimenti ancora. Grazie. Ok. Io ho fermato la registrazione. Perfetto. Basta. Adesso finisci. Stop. Chiudila, chiudila.